Ma che partita abbiamo vinto? Cos'è successo? YouTube ragazzi Cos'è successo? Ora ce l'ho se vuoi C'è gente qua? Ok, mi serve, mi serve Thank you Perfettisci due per? No, no, uno Gente, gente qua raga Arrivo, arrivo Ce l'ho molto vicino, non so Nel building dietro forse Sì, 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 è qua Da che parte? È viola? È one È one, è one, è one No, è one hit Eh, non ho capito Io ho fatto dieci di peace È entrato dentro, mi sa Ah, non ce l'ho davanti È scappato dietro questa Sto muro Gli altri sono qua dentro Aspetta che gli prendo building qua Qua da me? Marta? Vado top Qui ci sono i compagni Sono in cima Sono in cima Non sono qua qua Io sentivo altri passi, sai In questo building qua sentivo altri passi Stanno fetando Là fightano invece, sì Qua non c'è niente Possiamo andare a pushare quelli Tanto erano due squadre A meno che ci sia un third party Arrivo Ci sono le fence lì Sono soppi Sì, sì, disvedo, li vedo Rotto, rotto, l'avrete È one, l'avrete one Maccate? Settanta Oh, c'è l'altro Bella Oh, c'è gente Dove? Qua Rotano su di noi È blu Uno Sta lontano, sta lontano La dorata uno Quello là la dorata Il touch time Ho fatto il beacon Sì, questa chiude Ti ricordi Ti ricordo di Eh, no, no Non chiuderla Però questa chiude verso qua In queste zone qua Se piamo le ground penso Le gucci Ho sbagliato Cose che succedono Mi faccio un volo Ti faccio bolla Morire Oh, che tempismo Oh, che tempismo Parte 2 Spara qualcuno Rotto, rotto Non ha più armor il pet Musica Bisogna una mano No, ma no Da un atto Da dove? Da qua sopra Da là, da là Tieni scudo up Eh, no È un po' un casino Di metterlo in fretta Lo scudo Bravissimo C'è un rozzanodoro Sopra mettere tp Vai quando vuoi Tp up Forse mi pusha, no? Andiamo Ti hanno urtato Hanno urtato Torniamo da dove siamo passati Sì Poi andiamo Ah, ma c'è un team tutta di me? Sì Sono vicinissimi Sì, sì Qua si creccato uno Dio Dio Down, down, down Distrutto questo Down È uno, è uno questo È uno, è uno Morti, morti, morti Arriva un altro team No Opposto qua Ce la fai tirarlo su? Ah, sei down Ok, aspettate Siamo larghi? Abbiamo zipline Sì, ce l'ho O la vuoi? L'idea è stringere subito top E camperare top Oppure possiamo camperare round D'accordo Cioè abbiamo Allora, aspetta Facciamo un gioco Facciamo così Vado avanti io Rimanete qua Perché c'è anche il drop Non aperto Lì davanti Faccio il drop Tiremo dentro Qua c'è un team già Tipee up Apro il drop Potete entrare? Potete entrare C'è un tizio che mi guarda Ma entrate veloci Sono là sopra Entrate pure dentro un magazzino C'è un Krabber Chi lo vuole, Krabber? Io lo lascio No, io Non lo lascio Allora, quel coso lì Qua qua, guarda un attimo Qua qua Uh, gratto? Gratto Distrutto? Non conviene C'è solo Ok, ok, ok Non perdo Non siamo full points Dove è andato? Ha salito su Qualcuno sopra? È salito È la bengalore Che è salito su Invece qua Possiamo salire noi Invece Abbiamo qualcuno sul tetto Raga Quella è la bengalore È una dora No, è il team della bengalore No, è un altro team Un altro team Io scendo sotto Io non ho più shieldini Ce l'ho io, ce l'ho io Fatemi mettere teleporter Un attimo 98% 99% Vado Un medikit in più Ce l'avete? Sì, no Quattro No Ce l'ho zero Eh, innanzitutto Prendiamo questa Poi se tu hai Zipline Puoi metterla Già adesso E la metti là sopra Mi sei bugato Mi sei bugato anche a me Davvero? Non posso muovermi Manco io Eh, se non li prendo Mi blocco pure io State a vedere Non prenderlo Non prenderlo, Tommy Non prenderlo Ma sono scherzando Non potete accucciarvi? Eh Sì, ma non mi fa niente Mi sono bloccato tutto Aspettare che finisci Poi abbiamo un drop vicino raga Giusto per chiamare un po' di gente Droppagli un accelerant Che magari ci fa un altro TP Eh, 28% Può droppare? Non ce l'ho, non ce l'ho io Accelerant Quando sta? Al 28 35% la mia ultima Questa roba qua assurda Non sparare, non sparare, non sparare Non sparare Se ci pushano adesso Andate No, siamo locali Sì, però mangia meno A cena Zaref Cioè Zia buono Ma io l'ho preso Ah no, non l'ho mai preso Oh my god Ci serve un TP Ci serve un TP Si è bugato Si è bugato Se vi tirate una granata È anche un'altra soluzione Se mi succedo io Io mi succedo No, 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 no Una sola granata Puoi tirartela per muoverti Comunque forse ci push No, non va raga Non va Perché non posso neanche sparare Con la Mi succedo Ne serve un'altra Ok Ora muoverti Cura Non posso Ressarti Non posso Tommy serve un TP Per forza Non grego Non muore What the fuck Raga vinciamo la partita È ufficiale Vinciamo la partita Perché rimarrete vivi Fino alla fine della lobby E tutti moriranno E vinceremo il game Attenzione Next level Questa è next level tactic Hai lo scudo d'oro? No Adesso non mi non ce l'ha No In qualche modo si è buggato Ora ti ha Completamente Ho preso il TP Oh mio Dio Lo sto restando con 0 secondi Sei vivo Zaref What the fuck What the fuck E c'è pure Ma di chi è sto drop qua Che non l'ha preso nessuno È nostro È nostro C'era il Mastiff dentro L'ho preso io Ho lasciato il mio Eva 8 Full percato Non ci credo Non ci credo Andiamo a vincere Passiamo Passiamo dietro C'è un team qua dietro Attenzione a stare lì No Poi anche questi qua Si Si è sceso giù È sceso giù uno Lì davanti a noi Corre verso di noi Dorata Eh il problema No devo pusharla per forza Davanti Andiamo avanti Davanti Metti la bolla più avanti Però Zaref cazzo Eh lo so ma Mi c'è Ah l'ha già usato È la tua bolla o la Di chi è È la mia Vabbè Era Mock Slull Stai facendo i ultimi Mi cura Sono full Arriva Arriva Mi devo curare Vabbè Che è raccato Quasi l'altro Fuori c'è Fuori uno Rotto uno Rotto uno Due Manca l'ultimo Assaggia il mio master Rotto 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 Una la dorata Questa qua Partita da YouTube Incredibile Wow Glitched Glitched Il titolo clickbait è già fatto Non lo sapevo Glitched to the win In proprio Ciao